Buongiorno e benvenuti ad un nuovo episodio della finanza amichevole. Nell'ultimo episodio abbiamo parlato dei mercati emergenti e per ricollegarci a questo argomento oggi parleremo dei cosiddetti mercati di frontiera, i nuovi emergenti. Possiamo definire i mercati di frontiera quei paesi che adesso si trovano in una situazione economica simile a quella in cui si trovavano i mercati emergenti qualche decennio fa. Come sappiamo l'economia è una ruota che gira. Tre secoli fa l'Europa era un mercato di frontiera, 30 anni fa lo erano gli emergenti. Oggi ci sono i mercati cosiddetti di frontiera. Negli ultimi anni queste economie hanno registrato una forte crescita dovuta anche a un rapido incremento dei consumi interni. Per molto tempo gli investimenti in questi paesi erano legati più che altro allo sfruttamento coloniale che allo sviluppo. Oggi le opportunità sono come quelle avute nei mercati emergenti agli inizi. Vasto costo di mano d'opera, età demografica e mancanza di infrastrutture. La forte crescita di questi paesi è caratterizzata da un fattore fondamentale, lo sviluppo demografico che produce un incremento della popolazione giovanile. I giovani producono beni di consumo per i paesi sviluppati, dove la popolazione ovviamente come sappiamo sta invecchiando con notevole velocità e nello stesso tempo favoriscono la produttività del proprio paese con alti livelli di crescita di consumi interni grazie ai bassi costi di produzione e alla crescita del proprio benessere. Altri fattori importanti dello sviluppo dei mercati di frontiera sono l'innovazione tecnologica e la disponibilità di materie prime. Il primo in quanto investono nelle nuove tecnologie senza avere bisogno di sostituire le vecchie, vantaggio non indifferente. Il secondo per avere le materie prime a disposizione senza doverle acquistare da altri paesi. Le economie di frontiera, nonostante siano molto dipendenti dalle materie prime, dimostrano una loro non correlazione con i mercati sviluppati. Questo permette di poter fare analisi di crescita specifica svincolata dai movimenti finanziari. Dobbiamo però valutare quelli che sono comunque i maggiori rischi ad investire in questi paesi. Forte volatilità, poca trasparenza, scarsa liquidità nelle transazioni. Se dovessimo fare una previsione, anche se non è semplice, potremmo dire che questi sono i mercati più interessanti per il futuro. Però prima di investire in questi paesi, mi raccomando, si deve fare sempre un'analisi attenta. Quello che oggi potremmo considerare come un investimento rischioso potrebbe essere l'opportunità del domani. La citazione di oggi è la seguente. Entrate nella Borsa di Londra, l'ebreo, il maomettano e il cristiano si trattano reciprocamente come se fossero della stessa religione e chiamano infedeli solo quelli che fanno bancarotta. Voltaire. Rendiamo la finanza amichevole. Vi aspetto.